Domenica 26 giugno c'è il Vitacraft Trasimeno Dog Show, una giornata interamente dedicata agli amici a quattro zampe con dimostrazioni di obbedienza e di pet therapy, prove di salvataggio in acqua con cani e spettacolari esibizioni di Agility e Disc Dog. Ti aspettiamo domenica 26 giugno dalle ore 15 presso l'area verde Pozzino di Castiglione del Lago. Non puoi mancare!